Una leggenda vuole che il presunto santo Vinicio fosse l'uomo capace di scacciare il demonio. Vinicio avrebbe fatto diversi esorcismi. L'uomo pare si avveliva di un collare per scacciare i demoni, detto appunto il collare di San Vinicio. Il collare era anche in grado, apparentemente, di guarire gli ammalati, sia nel corpo che nello spirito evidentemente corrotto dal maligno. Questo oggetto, il collare, ora è custodito nella cattedrale di San Vinicio, a Sarsena, dove vicino è sepolto anche lo stesso santo. L'oggetto, apparentemente, per scacciare i demoni è formato da un elemento che forma un cerchio in ferro pattuto.